giovedì 24 febbraio eccoci insieme all'oroscopo del giorno san edilberto e san mattia auguri a tutti e il proverbio riguarda proprio il santo del giorno san mattia la neve per la via ariete nel lavoro un incontro inatteso fa nascere idee nuove per una futura collaborazione ottimi stimoli per allargare il vostro campo d'azione con la persona amata siate il più possibile disponibili un po di relax mentale per vincere la stanchezza e il consiglio per la serata un toro lieto fine per una crisi passeggera in campo affettivo cercate di rimettere in discussione un rapporto di lavoro troppo vincolante avete bisogno di spaziare di muovervi con maggiore autonomia probabile affaticamento correte ai ripari prima che sia troppo tardi gemelli apritevi agli stimoli positivi che vi arrivano dall'ambiente che vi circonda osate e concedete spazio alla vostra creatività avrete idee brillanti per riuscire a risolvere i problemi in amore siate invece più espliciti cancro in famiglia le cose prendono la piega giusta date spazio ai figli che hanno bisogno di diventare più autonomi nel lavoro continuate a premere sull'acceleratore non lasciatevi frenare da chi ama criticare senza poi darsi da fare leone la spontaneità vi aiuta a vivere in armonia i rapporti sentimentali in famiglia tenete conto di una richiesta se non volete ferire qualcuno nel lavoro ridimensionate una difficoltà e state certi di poter contare su buone alleanze prendete in seria considerazione una proposta vergine ricchezza di stimoli intellettuali ed emotivi successo in tutto ciò che deciderete di iniziare con l'aiuto di persone amiche in amore evitate programmazioni e fate invece ciò che vi detta il cuore bilancia oggi disporrete di molta vivacità e di energie vitali da mettere in gioco prendete un'iniziativa coraggiosa vi attirerete consensi dando prova di autonomia avete voglia di uscire da situazioni monotone bene buttatevi le vostre ispirazioni sono buone scorpione tempismo ed ampiezza di vedute vi promettono di risolvere i problemi lavorativi intuizioni straordinarie spianeranno la via in campo amoroso ci saranno bellissime realizzazioni negli affetti sagittario gratificazioni e conquiste nella sfera dei contatti sociali c'è una vecchia amicizia da recuperare in amore vincete i vostri timori ed affrontate a viso aperto una discussione chiarificatrice qualche contraddizione tra ciò che pensate e ciò che sentite capricorno belle occasioni per socializzare e comunicare con gente nuova vi saranno offerte in serata una proposta interessante vi distrarrà dalla solita routine protetti i viaggi attenzione alle tentazioni di fuga sentimentale non lasciatevi ingannare dalla vostra fantasia acquario favoritissimi i contatti con tutto ciò che vi stimola ad aprire nuovi orizzonti buone notizie arrivano per le finanze vi si ripresenta un'occasione favorevole questa volta vedete di non lasciarvela sfuggire dovete liberarvi però di un seccatore pesci siate meno fatalisti più intraprendenti procuratevi tutto ciò che vi serve senza aspettare che siano gli altri a darsi da fare ottimi gli stimoli per prendere in contropriede tutte le difficoltà dimostrazioni di stima da parte di soci e collaboratori